Entriamoci su quello che hanno da raccontarci in questo pomeriggio Inter e Sassuolo, sguardo al cronometro per Petrella Si parte, buon divertimento da Busto Arsizio Pandini, Marinelli, Polli, le alternative ci sono Recupera palla l'Inter molto bene con Abbonetti Zona tiro dentro per Carshuni L'ultimo tocco di Didlemei ma il pallone finisce comunque in porta Per il vantaggio dell'Inter Vediamo se l'ultimo tocco è stato di Carshuni o di Ajaran Gioia Che sembra volersi attribuire il vantaggio nero azzurro Rivediamo, qui Carshuni, tocco decisivo per Bonetti Che poi torna a cercare la francese L'Emei, deviazione, poi scivola praticamente All'altezza della linea di porta o quasi Filangeri Andiamo a rivedere E butta dentro Gioia Dovrebbe essere dell'ex attaccante dell'Atletico Madrid il gol Non c'è un attimo di pausa, questo va detto a merito delle due squadre Carshuni ruba palla a Miasci 3 contro 1 dell'Inter Carshuni che scarica su Bonetti Che sbaglia Tutto molto simile all'azione del vantaggio nero azzurro Simonetti Prova a mandare il pallone avanti Grande aggancio in prima battuta di Carshuni Poi però il pallone le sfugge Dubciova per Cantore che può calciare col Mancino Appareggiato il Sassuolo con Sofia Cantore Un lampo nero verde Carshuni poi però il pallone le è sfuggito Dubciova per Cantore col Mancino A infilare la porta di Durante Puro istinto Per il numero 11 Appareggiato il Sassuolo con il gol numero 7 In questo campionato di Sofia Cantore Non c'è stata nessuna segnalazione Poi Bugeia Adesso è comunque un buon momento per il Sassuolo Dubciova Prova ad aprirsi un varco per il destro Super gol Di Camila Dubciova L'ha ribaltata il Sassuolo E si prende strameritatamente l'abbraccio delle compagne Di Cantore E poi 2 a 1 Firmato Camila Dubciova Con un destro a giro meraviglioso E non ci stanchiamo di rivederlo chiaramente Pallone che si spegne alle spalle Di Durante E le fa segno Alice Parisi Mamma mia cosa hai combinato Il Sassuolo è a protezione della propria area Carshuni non passa Anche dietro Efficace Dubciova Pallone regalato dalle mei abbonetti E poi le mei deve salvare così All'ombra alle spalle di Parisi Riesce a evitarla e a gestire bene questo pallone L'ex giocatrice del Bordeaux Polli Per Bonetti Che non riesce a girarsi sul mancino Poi lo fa così Bonetti calcia 2 a 2 La magia di Tatiana Bonetti Per il pareggio dell'Inter Rivediamo Che brava Un po' meno L'Emei A essere onesti Perché la conclusione Non è arrivata violenta in porta Anche se molto angolata Non ha potuto nulla la Belga Quinto gol in campionato Di Tatiana Bonetti Scaduto Ma si va Colpo di testa No, non l'ha toccata Sono stevoldo Pallone che scorre Oltre la linea di fondo Fischia Tre volte Petrella Finisce così 2 a 2 Tra Inter E Sassuolo Partita spettacolare Come nelle attese La riacciuffata nel finale La squadra nera azzurra